Siamo nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria per l'inaugurazione della nostra 31esima stagione di concerti con il nostro direttore artistico il maestro Massimiliano Baggio. Qual è il titolo della stagione di quest'anno? Il titolo della stagione di quest'anno è per Aspera d'Astra, è una stagione che si incentra come argomento sul virtuosismo esecutivo, musicale e anche compositivo. È una stagione molto varia sia per quanto riguarda il repertorio sia per quanto riguarda gli strumenti che verranno presentati. Allora la stagione sarà a Milano, sarà a Roma e sarà a Napoli. Il nostro prossimo concerto a Milano quando sarà? Il prossimo concerto a Milano è il 22 novembre alle ore 19, differentemente da quanto succede solitamente e ci sarà un pianista cipriota, l'Armes Paulu, che è stato segnalato nella scorsa edizione del concorso internazionale organizzato dalla Società Umanitaria. Vi aspettiamo, grazie.